Namaste. Benvenuti a questa breve introduzione a Anusara Yoga. Cos'è Anusara Yoga? Anusara Yoga è una scuola recente di Atta Yoga. Nasce nel 1997, fondata, creata da John Friend, un'insegnante di Atta Yoga, già del metodo Iengar, che ha sviluppato, ha creato questo metodo, a cui ha dato il nome, ha scelto il nome Anusara. Anusara spesso viene tradotto, interpretato, come fluire con la grazia, fluire con il potere dell'assoluto, con il divino. Anu è ciò che è limitato, in una forma contratta, individuale, possiamo dire. Sara, ciò che è espanso, universale, l'assoluto. Quindi quando, diciamo Anusara, interpretiamo l'individuale, ciò che è limitato, che si immerge, si espande nell'assoluto, nell'universale. Si armonizza, fluisce con l'assoluto. È parte dell'assoluto. Anusara è un metodo, dicevo, di Atta Yoga. L'Atta Yoga è una pratica che nasce nel periodo tantrico. Il tantra, il tantrismo, storicamente, fa riferimento a ottavo, nono, decimo secolo, undicesimo secolo dopo Cristo. E sono filosofie, una visione, che ovviamente sorgono, influenzate, prendono origine da Iveda, da quello anche che definiamo yoga classico, e poi sviluppa una serie di visioni, di filosofie, di pratiche, di tecniche, che vengono ascritte al periodo tantrico, dove diversi mestri, Utpaladeva, Binava Gupta, Shemaraja, descrivono, spiegano, danno questa visione dell'universo come manifestazione di un principio universale, a cui spesso viene dato il nome di Shiva, Paramashiva, che sceglie liberamente di manifestarsi in ciò che è individuale, in tutto l'universo, in tutte le espressioni dell'universo, incluso, ovviamente, ogni essere umano, ognuno di noi, non solo l'essere umano, ogni animale, ogni pianta, tutto. E questi saggi affermano che ciascuno di noi è in grado di fare l'esperienza di essere quel principio, di essere l'assoluto. E da questa visione, in un periodo successivo, prende, sorgono le pratiche che poi, diciamo, teniamo o fermiamo a essere parte della Thai Yoga. tecniche di pranayama, recitazione dei mantra, mudra, banda, asana, posture. E nel corso dei secoli, dal 1300-1400 d.C., via via, si sono evolute queste tecniche, fino ad arrivare ai giorni nostri con diverse modalità, diverse interpretazioni. E una di queste è la scuola nosara, il metodo nosara, la cui, diciamo, il cui fondamento filosofico fa riferimento a quella visione tantrica cosiddetta non duale, proprio dello shiverismo casmiro, che afferma che l'assoluto, supremamente libero, sceglie di incarnarsi, diciamo così, in ogni cosa individuale, che ha una manifestazione immanente, specifica. e nel divenire ogni forma, immanente, specifica, ogni corpo umano, ogni pensiero, emozione, che fa riferimento all'essere umano, non perde la sua specificità di essere supremamente libero, assoluto. L'assoluto diviene l'individuale, e l'individuale ha la possibilità, attraverso le pratiche, anche questo è ciò che affermano i maestri del tantra e i maestri, poi, anche della taiyoga, alla possibilità di avere l'esperienza di essere quello assoluto. Cosa specifica, o diciamo, cosa caratterizza la nosara, questo metodo? È, appunto, un metodo, una scuola, e quindi è una tecnica che si basa su questo principio e attraverso, diciamo, un modo di praticare gli asana, praticare pranayama, la meditazione, può aiutarci ad avere l'esperienza di essere l'assoluto. quindi, ritornando al termine scelto, a nosara, cioè, l'intento è di sperimentare, se volete, la natura di quel principio dell'assoluto in ciascuno di noi, in noi stessi. E, sempre questa è la filosofia non duale, tantrica afferma che la natura di quel principio, che è pura luce, coscienza, supremo amore, suprema beatitudine, suprema bellezza, si manifesta in noi. È ciò che noi siamo, intrinsecamente siamo. Il nostro, la nostra essenza è pura luce, è pura beatitudine, è suprema bellezza. E quando, attraverso le pratiche, noi armonizziamo, aiutiamo ad armonizzare i diversi aspetti del nostro essere, incluso il corpo fisico, incluso il respiro, incluso il nostro aspetto mentale, emotivo, noi possiamo avere quell'esperienza che, al di là della forma, che poi si manifesta in una forma, si manifesta nella forma del nostro corpo fisico, ma la nostra essenza è al di là della forma del nostro corpo fisico, che oltretutto cambia nel corso del tempo. È al di là dei nostri pensieri, che cambiano nel corso del tempo, un secondo dopo un secondo, ma è presente nella forma del nostro corpo, è presente nella forma dei nostri pensieri, delle nostre emozioni. Potrei sintetizzare, se volete, l'intento di Anusara Yoga, della pratica di Anusara Yoga, in riferimento a questa premessa, con due parole. Aprire il cuore. Aprirsi alla nostra essenza. Aprirsi alla nostra vera natura. Aprirsi alla possibilità che siamo coscienza, che la nostra essenza è beatitudine, bellezza, amore, libertà. Quindi, cos'è la pratica di Anusara Yoga? Qual è l'intento? È aprirci alle nostre infinite possibilità.